Beh, è curioso vedere che il PD e 5 Stelle parlano la stessa lingua, ecco, questo è un segnale che ho visto e che penso anche i cittadini a casa hanno notato, ma sentire i due esponenti che tra l'altro sono o sono stati amministratori di Roma, accusare Salvini di non fare abbastanza è veramente ridicolo, anche perché Salvini è un grande, non lo dico io, l'hanno detto anche i cittadini italiani votando l'europea, essendo ora la Lega quasi il 40%, ma non può risolvere i danni fatti da amministrazioni sbagliate, di centrosinistra, di 5 Stelle, però chiedo a Luca Bergamo, lo chiedo a lui perché non c'è l'assessore alla sicurezza a Roma, c'è un funzionario che segue la sicurezza, lo chiedo a lui, perché è il contrario l'utilizzo della pistola elettrica? Io l'ho detto molto specificamente, se lei avesse letto l'intervista lo sarebbe, non sono contrario l'uso della pistola, i vigili urbani non devono stare in ufficio, non devono stare in ufficio, devono poter essere sulla strada e tutelare la salute pubblica, è solo pubblicità, non è pubblicità, mi spiega perché a Vicenza, a Treviso e in tante altre città chiedono l'utilizzo di questo, E voi dite di no, allora, probabilmente Luca Bergamo è sommesso da rifiuti a Roma, probabilmente è sommesso da rifiuti e non si accorge dei problemi veri, non si accorge delle buche delle strade, non si accorge, io invito l'amministrazione Raggi, attraverso il suo assessore, di fare qualcosa di più, loro per la sicurezza, perché non è possibile dire che i problemi devono essere risolti dagli altri, No, abbiamo assunto uno certo vigili urbani, non è possibile, dovete assumere le vostre, perché il confronto sia...